E' una Teramo a spicchi tranquilla e serena per la salvezza ottenuta in anticipo, ma che allo stesso tempo vuole ben figurare nella fase play-in silver, così come ha sottolineato il giocatore bianco-rosso Leonardo Prega. Sì, il risultato l'abbiamo raggiunto, era uno degli obiettivi della società e infatti ne siamo molto onorati ad averlo raggiunto e nonostante un po' di sfortuna, le difficoltà, ma siamo molto contenti. Ciò non significa che ci dobbiamo accontentare, nonostante soprattutto le difficoltà a livello di giocatori, visto che siamo un po' pochi, però l'obiettivo è raggiunto ma puntiamo a fare sempre meglio. La stessa società, dopo le partenze di Duranti e Zanetti, si è mossa sul mercato, ingaggiando in settimana l'ala classe 2003 Matteo Guardigli, proveniente da Ravenna. Sicuramente l'ambiente è diverso senza due giocatori molto importanti, ma ciò non ci scoraggia, non andiamo in campo a perdere tempo a giocare, ma nonostante in pochi ci alleneremo e punteremo sempre a fare di più. Intrigante poi la sfida che si prospetta questa sera al Palatasp contro Ferentino di coach Gianluca Lulli, storico capitano dell'allora Teramo Basket nel decennio d'oro della Serie A. Si deve sfruttare tutto quello che è nelle nostre armi, anche perché gli avversari sono forti e daremo il massimo sfruttando tutto.